Oggi l'Arma dei Carabinieri festeggia il 195esimo anniversario, un giorno importante. Tutti i 5 giugno degli anni che si succedono, da circa 200 anni, è una data importante per noi. Serve a ricompattarci, di fatto, a reincontrarci tra carabinieri che sono nei vari angoli della provincia, da Menfi a Licata a Cammarata, ci si rivede oggi sicuramente in una versione molto più semplice, più sobria, con molto meno personale. Ed è anche un momento per fare un punto di situazione, per dire a noi stessi soprattutto che cosa si è fatto negli ultimi 12 mesi e cosa intendiamo poi fare per i prossimi mesi. Scenario della celebrazione dell'annuale festa dei Carabinieri è stato il cortile interno del comando provinciale della caserma Biagio Pistone. Presenti tutte le autorità, civili, militari e religiose, responsabili delle istituzioni con in testa il prefetto di Agrigento Umperto Postiglione. È il momento sul quale si riflette sul ruolo che l'Arma dei Carabinieri svolge sul territorio. Sappiamo tutti che fra le forze dell'ordine l'Arma dei Carabinieri è quella più capillarmente diffusa, è quella che conosce il territorio, soprattutto quello dei piccoli centri palmo a palmo, abitante per abitante. Quindi è un ruolo fondamentale per tenere sotto controllo la situazione dell'ordine della sicurezza, ma è un ruolo fondamentale anche per i tratti umani che caratterizzano e connotano l'attività dell'Arma. Sicuramente il momento più intenso è stata la consegna degli encomi ai militari dell'Arma che si sono maggiormente distinti in quest'ultimo anno.